Donato, 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 la fase 2 in realtà. Non dovete fare la doccia, non dovete fare la doccia, risparmiate l'acqua per... Cioè io esco, vado a trovare un cugino di secondo grado, ci posso andare o no? Ci posso andare o no? Questi di qui che sono duecento ostie, con il cinquecento panno, con il sterminante, il due per mille, avevano anticipato il centone agosto i soldi, il due per mille, e partite! Cinque euro, cinque euro, cinque euro, cinque euro, cinque euro! Qualcuno vuole, qualcuno vuole! Cinque euro, con te! Cinque euro! E tu continui a... Forse, forse... Che la forza sia con noi! Che la forza sia con noi! Combatteremo! Che la forza sia con noi! 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 In tutto quest'anno combatteremo il lato oscuro che minaccia il nostro futuro e comincieremo di qui, che la forza sia con noi. Donato! 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 Il bonus monopattino! Il bonus monopattino donato! Tu non ci crederai che cosa si sono inventati! Il bonus monopattino! Loro sono lì, la gente muore di fame! Si spendono ogni anno 300 milioni per vestiti di zombie, di scheletri, di cose orrende, mostruose, tutto per importare una tradizione che non è la nostra. E dimentichiamo invece le nostre radici, la tradizione, la zuppa di ceci, il pan dei morti... E allora io dico, no, io non voglio festeggiare Halloween! Io Halloween non lo voglio festeggiare! Io Halloween non lo voglio festeggiare! Non lo voglio festeggiare! Mi pare che il bonus monopattino sia stato tolto, è certo, ma che cazzo ci facciamo? Che cazzo ci facciamo con il monopattino?